Ciao tifosi nerazzurri, benvenuti nel canale ufficiale dell'Inter. Prima di iniziare con le notizie, vi chiedo di iscrivervi al nostro canale e lasciare quel mi piace per aiutarci a crescere e portare più contenuti sulla nostra amata Inter. Oggi c'è una notizia che sta facendo scalpore sulla Gazzetta dello Sport, con toccanti dichiarazioni di Marco Materazzi, icona dell'Inter, sull'addio di Romelu Lukaku. L'addio di Lukaku ha fatto molto discutere, ma bisogna capire che la società è ormai prontissima per seguire nuove direzioni e fare altre scelte. Materazzi, vero tifoso di Lukaku, desidera ardentemente che risolva tutta questa situazione. Del resto la nostra Inter ha fatto di tutto per lui, non solo una, ma ben tre volte. Prima, quando lo abbiamo portato dallo United per brillare qui con noi. Poi, a cuore aperto, lo abbiamo accolto a braccia aperte dopo una stagione al Chelsea. E infine, dimostriamo quanto vogliamo riacquistarlo, riaffermando l'amore e l'importanza che ha per noi. Ma quello che Materazzi vuole davvero è che Lukaku si comporti davvero gentiluomo, proprio come Onana. Possa mostrare il suo rispetto e affetto per il club e i tifosi condividendo le sue vere emozioni a cuore aperto. Questo servirebbe a evitare fra intendimenti Iei sottolineare il rapporto speciale che il fuoriclasse ha sempre avuto con l'Inter. La partenza di Lukaku è stata dolorosa e Materazzi capisce quanto tenesse a noi, così come noi teniamo a lui. Pertanto, sottolinea l'importanza che Lukaku parli apertamente dei suoi sentimenti. Questo non solo per la società e per i tifosi, ma anche per i suoi compagni di squadra, che lo rispettano e lo ammirano profondamente. All'Inter trattiamo sempre i nostri giocatori con cura e rispetto, e non abbiamo mai visto un giocatore lasciare il club dopo uno scudetto perché sognava altri posti. Lukaku è stato riaccolto con amore e gioia come un figlio al prodigo, e la sua partenza ora, in questa forma, è come una pugnalata nei nostri cuori. Ricordiamo tutti i fantastici momenti che Lukaku ci ha regalato e gli auguriamo successo nelle sue nuove sfide. Forza Inter!